Ciao e benvenuta in questo video! Come letto al titolo, oggi torno con un argomento perfetto per il periodo, ovvero i costumi da bagno. Andremo a vedere insieme che modello scegliere in base alla propria fisicità, in modo tale che tu ti possa preparare per il tuo eventuale shopping di beachwear o comunque avessi qualche curiosità su quale dei costumi che possiedi effettivamente ti valorizzi maggiormente. Secondo me è sempre interessante andare a capire giusto anche per migliorarci o comunque per prestare attenzione un po' anche per divertimento semplicemente. A me piace sempre sapere come posso effettivamente valorizzare al massimo la mia figura e quindi di conseguenza sentirmi anche meglio con quello che indosso. Poi è vero che per quanto riguarda i costumi da bagno ci sono alcuni modelli che a me piacciono tantissimo, che sono consapevole non essere il modello giusto, perfetto per me, ma che poi comunque, devo dirti la verità, scelgo di indossare ugualmente perché mi piace talmente tanto che penso un po', vabbè, chi se ne frega, nel senso non sarà il massimo ma è comunque bello. Quindi un po' per curiosità, un po' per voglia di mettersi in luce il più possibile e un po' anche per conoscenza direi di iniziare subito e di approfondire questo argomento. Mi scuso tantissimo per la mia voce, giuro che la mia influenza sta passando, però siamo ancora in questo momento di transizione in cui mi è andata via la voce e sto recuperando. Nel caso non mi conoscessi, io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine, benvenuta in questo video e benvenuta in questo canale. Prima di iniziare ti voglio ricordare le 5 figure del corpo, il triangolo, il triangolo inverso, la clessidra, il rettangolo e la figura ovale. Oltre a queste abbiamo delle eccezioni, ovvero quelle fisicità che presentano delle caratteristiche sia di una figura sia di un'altra. Detto questo, iniziamo subito con la fisicità a triangolo e capiamo quali costumi scegliere per valorizzarla al massimo. Nel caso non lo sapessi, il fisico a triangolo è quella figura del corpo che presenta i fianchi solitamente più importanti, più ampi rispetto alle spalle. Quindi ciò che dobbiamo fare è bilanciare i fianchi con le spalle. Il punto vita è solitamente abbastanza segnato. Quello che dobbiamo fare noi per quanto riguarda la scelta dei bikini è sicuramente concentrare la nostra attenzione sulla parte superiore. Quindi tutti quelli che sono i dettagli dobbiamo portarli sul top, per esempio ruche, volant, laccetti, fantasie, stampe. Mentre per la parte inferiore dobbiamo assolutamente rimanere il più neutre, il più asciutte possibile. Inoltre importantissimi sono anche gli scolli, i modelli del nostro bikini. Per esempio per la parte superiore questo vale sia per i bikini sia per i costumi interi. Stanno molto bene le spalline sottili, i costumi con taglio all'americana, quindi il classico laccetto che si lega dietro al collo, o anche le linee dritte, quindi il classico costume a fascia. Poi non meno importante è sicuramente scegliere un bikini spezzato e quindi il top sceglierlo colorato, a fantasia, con colori accesi, luminosi che catturano luce, mentre lo slip sceglierlo di un colore più scuro, più neutro e anche più opaco, proprio che passi in secondo piano. Un altro appunto sullo slip del nostro costume da bagno, alla fisicità a triangolo, solitamente dona molto lo slip a vita alta, proprio perché va a segnare, valorizzare il punto vita. Mi raccomando quindi focus sempre su spalle e seno. Anche per esempio i bikini, quelli che presentano il volant, che coinvolgono anche le spalle, stanno benissimo. Sono proprio perfetti per ampliare visivamente la larghezza delle nostre spalle e quindi bilanciarla con quella dei fianchi. Passiamo poi alla seconda figura del corpo, ovvero il triangolo inverso, esattamente il contrario di ciò che abbiamo appena detto. Questa figura infatti si caratterizza per avere le spalle più ampie dei fianchi, quindi in questo caso il nostro obiettivo è rendere i fianchi un pochino più larghi e bilanciarli con le nostre spalle. Quindi sicuramente faremo passare in secondo piano la nostra parte superiore e valorizzeremo invece la nostra parte inferiore. In che modo? Anche qua giocheremo molto bene con i modelli dei costumi e i loro colori. Anche per quanto riguarda questo fisico vanno benissimo sia i bikini, sia i trichini, sia anche i costumi interi. Per il top dovremo preferire linee verticalizzanti che quindi aiutino, diciamo, a ridimensionare le nostre spalle. Quali modelli scegliere? Sono perfetti i modelli con profondi scolli a V, spalline larghe, mai spalline strette, quelle andavano bene per la figura triangolo. I modelli monospalla, perfetti e indicatissimi. E anche per esempio coppe imbottite o push up, perché solitamente questa fisicità ha poco seno o comunque ha bisogno, diciamo, di dare più volume sulla parte appunto del petto. Per quanto riguarda invece la parte inferiore del corpo, qua possiamo assolutamente sbizzarrirci. Molto belli gli slip un po' a vita alta con laccetti, volant, dettagli insomma, che diano l'idea di ampiezza, di volume ai nostri fianchi. E anche appunto, come dicevamo prima, fantasie, stampe, colori accesi, colori protagonisti. Passiamo poi alla terza figura del corpo, ovvero la clessidra. Chi presenta questo fisico ha spalle e fianchi bilanciati e una vita particolarmente segnata. In termini di costumi da bagno si può permettere un po' tutto, dai bikini ai trichini ai costumi interi. Ciò che sicuramente deve fare è valorizzare il vitino da vespa. Per questo assolutamente sì a tutti quei modelli che abbiano al loro interno un dettaglio che riporti l'attenzione sul punto vita. Una cintura, una balsa, una ruche, un laccetto, questo genere di dettagli. Le fantasie vanno bene su entrambi le parti del nostro costume, quindi sia top sia slip. Solitamente lo scollo all'americana valorizza particolarmente la parte superiore del fisico a clessidra e anche, diciamo, tutti quegli scolli AV stanno molto bene. Anche il modello cutout riesce a valorizzare benissimo la fisicità a clessidra. Passiamo poi alla quarta figura del corpo, ovvero il rettangolo, che presenta spalle e fianchi bilanciati, ma un punto vita poco segnato, a volte inesistente. In questo caso il nostro obiettivo è sicuramente addolcire questa fisicità, quindi andare a creare, diciamo, delle linee curve, un po' di movimento al suo interno e anche creare otticamente, dare l'illusione di avere un punto vita abbastanza segnato. In che modo possiamo farlo? Allora, innanzitutto partiamo dicendo che anche questo fisico si può permettere sia i bichini, sia i trichini, sia i costumi interi e soprattutto si può divertire con le fantasie, le stampe, i colori e i vari modelli senza troppi problemi, nel senso che anche qua quasi tutto dona molto e sta molto bene. Da prediligere i modelli per quanto riguarda la parte superiore a balconcino con spalline strette in modo da, diciamo, regalare più ampiezza alle spalle e quindi creare quel movimento che dicevamo. Sono anche bellissimi e perfetti tutti quei dettagli come volant, brush, laccetti che coinvolgano, prendano un po' tutto il corpo, quindi anche la zona dell'addome e inoltre sono indicatissimi quei costumi interi o bichini bicolor che presentino anche dei dettagli sulla zona della vita in modo però da dare, regalare volume. Quindi anche là una balza, un volant sul punto vita sarebbe molto indicato. Anche in questo caso, se ti serve volume sulla parte superiore non avere paura a indossare un push-up o una coppa più strutturata e proprio per questo motivo ricordati che il punto vita lo puoi andare a creare diciamo otticamente, dare l'illusione di avere un punto vita più segnato mettendo proprio in luce la parte del seno e delle spalle. Non sottovalutare poi i colori matte e le texture che possono essere dei grandi alleati per il fisico a rettangolo. Mi stavo dimenticando di dirti che sono anche bellissimi e perfetti gli slip a vita alta e un po' sgambati. L'effetto è super! Giungiamo poi all'ultima figura del corpo, ovvero quella ovale. Chi ha questo fisico solitamente presenta spalle e fianchi ben bilanciati e un addome un pochettino più morbido. Il nostro obiettivo quindi sarà spostare il focus dall'addome alla nostra parte superiore o alle nostre gambe. Come fare? Sicuramente su questo fisico funzionano benissimo i costumi interi con profonde scolature a V perché slanciano la fisicità e appunto faranno focalizzare chi ti guarda sulla tua parte superiore. altrimenti se preferisci sempre il bikini puoi optare per un modello a vita alta con il top, quindi il reggiseno ben strutturato che ti sorregga il seno perché solitamente chi ha questa fisicità ha anche un seno abbastanza importante. Quindi assicurati che il tuo seno sia ben sorretto. Sono perfetti i modelli a balconcino, potrebbe anche starti molto bene il classico modello con lo scollo all'americana o con spalline a V. Altri modelli che stanno molto bene sono quelli incrociati o quelli che presentano delle arricciature in punti strategici. Per quanto riguarda i colori opta sempre per dei colori scuri, dei colori matte. Se scegli una fantasia assicurati che sia a sfondo scuro e che la fantasia sia abbastanza grande da accompagnare la tua figura. Detto questo ricordati quindi sempre dettagli verticali, tagli abbastanza asciutti, evita volant, evita fronzoli, evita tutto ciò che possa donare ulteriore volume soprattutto sulla parte dell'addome. Quindi questi alcuni consigli per andare a valorizzare al meglio la nostra fisicità. Spero che questo video ti sia stato utile. Se hai qualche domanda lasciamela pure nei commenti, sarò iper felice di risponderti. Ora il mio raffreddore mi sta chiedendo un attimo di pausa. Ti ringrazio tanto per aver seguito questo video. Ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ovviamente ci vediamo al prossimo. Un bacio! Grazie! Grazie!